Inserire dati in automatico sull'elenco della nostra attività. Inseriamo una tabella di anagrafica, quindi cliente e le sue informazioni. Dopodiché ci spostiamo sul foro dell'attività. Quando andiamo su cliente e selezioniamo il cliente, vogliamo che si mappino tutte le sue informazioni e abbiamo il progressivo dell'ordine. Per fare questo dobbiamo prima fare un elenco a discesa, quindi strumenti, convalida dati, convalida dati, elenco e selezioniamo il perimetro di dati che vogliamo far comparire nell'elenco. Dopodiché dobbiamo compilare la formula di ricerca dell'indirizzo, capo eccetera. Quindi qui che cosa facciamo? Facciamo un cerca verticale di che cosa è il valore che sta sull'attività, che è quella decente, dalla tabella 1 restituiamo alla colonna 2 che è quella dell'indirizzo e mettiamo falso. Poi aggiungiamo il se non disponibile, perché se non abbiamo selezionato niente, vogliamo che ci riporti blank. Per fare l'incrementare è molto semplice, dobbiamo semplicemente dirgli se la cella D4 è diversa da blank, perché se è blank noi vogliamo che metta 0, allora fai 1 più B3, quindi 1 più il valore che sta sopra. Così facendo avremo automatizzato il nostro inserimento.